Dal 2006 la Caminetti & Co. è il punto di riferimento per stufe, caminetti, caldaie e termocucine. L'innovazione e design, uniti all'esperienza e alla qualità delle nostre installazioni, ci consentono di proporre soluzioni di altissimo livello, come il cammino sospeso della Focus o le nuove caldaie a biomassa, le stufe a pelle e telegna, gli impianti completi di solare termico. E se pensi ad una nuova stufa, qui puoi acquistarla a condizioni vantaggiose. Caminetti & Co. Showroom a terra nuova Bracciolini. Località Ponte Moccarini.